Indovina libro numero 3 A parlo dunque sono, non solo cerchiamo belle parole, vetture interessanti, un modo armonico di confrontarci con la parola scritta e renderla viva, ma andiamo proprio a identificare dei libri importanti che magari avete letto anche voi, o sui quali voglio sollecitare la vostra attenzione. Poi voi mi direte se indovinate quali libri sono. Partiamo. Questo potrebbe essere molto facile. Il signore e la signora Darsley di Privet Drive numero 4 erano orgogliosi di poter affermare che erano perfettamente normali e grazie a Dante. Erano le ultime persone al mondo da cui aspettarsi che avessero a che fare con cose strane o misteriose perché sciocchezza del genere proprio non le approvavano. Non è difficile, pensateci. Ora ne abbiamo un altro. Se io debba risultare l'eroe della mia vita o se questo posto debba essere tenuto da un altro, lo mostreranno queste pagine. Per iniziare il racconto della mia vita con l'inizio stesso della mia esistenza dirò che sono nato, così mi hanno detto e credo, un venerdì a mezzanotte in punto. Questo, se non lo conoscete, è difficile. Questo mi potrebbe piacere molto. A segnare in maniera indimenticabile l'anno 1866 fu un evento strano, un fenomeno inspiegato e inspiegabile. Per non parlare delle voci che agitavano le popolazioni dei porti, che sovrecitavano l'animo del pubblico della città dell'interno, fu la gente di mare ad essere particolarmente preoccupata. Chiudiamo, perché questo ve lo voglio fare solo così, ve lo voglio dare come idea, dovresti identificarlo subito. In un paese della mancia di cui non voglio fare il nome viveva, or non è molto, uno di quei cavalieri che tengono la lancia nella rastrelliera, un vecchio scudo, uno suto ronzino e il levriero da caccia. Beh, questo era facile, no? Lo indovinerete subito.